Consundivo del Genio Civile di Agrigento su candieri da avviare o in corso, compresa la pavimentazione della panoramica dei templi. L'intervento è stato di Rino Lamentola. Ce ne parla Giuliana Miciche. Sono complessivamente 24 le autorizzazioni e i pareri rilasciati dal Genio Civile di Agrigento nel corso del 2020 per l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture che attraversano il territorio della provincia di Agrigento. In particolare i lavori sulle strade statali riguardano i viadotti in Maddalusa, Valle del Platani, Morandi e Re. E poi i lavori nella Galleria Belvedere di Sciacca, la statale 189 in corrispondenza di Contrada Tumarrano e le statali 118 e 188 per i tratti che attraversano rispettivamente il territorio di Agrigento e Sambuca di Sicilia. Una serie di lavori riguardano inoltre le strade provinciali Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Siculiana Raffadali, Mussomeli San Giovanni Gemini, Ribera Cianciana, Sciacca Menfi e la dorsale San Biagio Platani Castel Termini. Molti di questi cantieri sono già in fase di esecuzione ed altri saranno presto avviati dai soggetti titolari delle autorizzazioni rilasciate dal genio civile. Durante il 2020, afferma il capo del genio civile di Agrigento, Rino Lamedola, abbiamo riservato massima priorità all'esame dall'approvazione dei progetti che riguardano le infrastrutture nella consapevolezza che siano interventi importanti per limitare quel ritardo infrastrutturale che ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Rimanendo nel campo delle infrastrutture, anche il 2021 nasce l'insegna di nuovi progetti. Il genio civile, infatti, accogliendo le istanze del sindaco di Agrigento, Franco Micicchè, sta redigendo un progetto per la pavimentazione della panoramica dei templi, limitatamente al tratto non pavimentato dalla provincia, e poi della strada provinciale 15 per il tratto di contrada consolida, al fine di garantire un efficiente collegamento dell'ospedale San Giovanni di Dio con la città di Agrigento e con la viabilità principale. Proprio in questi giorni, conclude Lamedola, abbiamo completato anche il progetto del servizio a supporto della gara che sarà bandita entro il prossimo mese di marzo per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento della strada Maremonti che per un investimento complessivo di 123 milioni di euro collegherà alla viabilità principale i comuni della provincia di Agrigento ricadenti nella fascia centrale dei Monti Sicani.